Niente male detta da te, ma io ne conosco una migliore. No, no, Damon, lo so che ne hai sempre una migliore di riserva, ma io l'ho detta in tutta sincerità e se hai dei dubbi ti prego di credere alla mia sincerità nel raccontarla. «George, non mi verrai mica a dire che credi davvero ai fantasmi? Già la sola idea è assurda, e collegare la credenza in certe cose a te è... è...» E Van Buster, meglio noto come Damon, si interruppe per mancanza di un espletivo e alla fine sbottò in un «Folle!» «Ma io ci credo e come!» «E sono in buona compagnia, perché posso annoverare i più grandi luminari di ogni epoca, dai tempi della necropanzia caldea fino al freddo, scientifico giorno d'oggi. Fermatevi a riflettere, tu Damon, e tu Piteas, perché posso vedere lo scetticismo scintillare nei vostri occhi. Ricordate che in ogni epoca, in ogni paese, presso ogni popolo, sono stati e sono in molti a credere nel ritorno dell'anima dopo la morte. Come potete dire, di fronte a questa enorme massa di testimonianze che avete sotto gli occhi, che tutto ciò è frutto di cervelli malati e di immaginazioni abnormi?» E siccome Damon e Piteas confermarono la sua imputazione, terminò con la mia speranza che una volta o l'altra sarebbero stati costretti a cambiare idea davanti a una prova fatta a propria spese. Dai, Piteas, cos'hai da dire a nostra comune difesa? Mostra al nostro credulo amico le solide basi su cui poggiamo. Metti in atto tutta la tua possente logica, come pure la tua sofistica, perché il caso è disperato. Mostragli che questa forza metapsichica è solo una creazione dell'immaginazione troppo fertile dell'uomo. Dimostragli che tutti questi spiriti terrestri, come forme astrali ed entità incorporee, sono solo chimere. «Ma Damon», fece l'altro in tono affettato, «non mi va a disprecare la mia favolosa dottrina e le mie laboriose ricerche su argomenti così futili. Invitato a confrontarmi con problemi fondiari, tariffari o finanziari, interverrei ben volentieri. Ma questo somiglia troppo alle ciance infantili sul bau bau. Altro che spiriti, al nostro caro George posso soltanto dire che è uno sciocco, e finché non mi avrà presentato una forma astrale, non mi abbasso neppure a rispondere». Per nulla impressionato dai sarcasmi degli amici, George disse, «Avrei voglia di intonare quella vecchia poesiola burlesca. Prima a Derby devi andare e vedere ciò che io ho visto. perché io ho avuto molte prove che considero autentiche dell'esistenza e dell'attività di questa forza. Lo so che non c'è argomento che tenga quando si ha a che fare con due menti superiori come le vostre, che però sono a tal punto bloccate in una stasi intellettuale da non saperlo neppure, anzi, da non sapere di non saperlo. «Noi tutti guardiamo il mondo attraverso lenti colorate, ma le vostre lenti sono così, ma così verdi, che sembra quasi…» «E tu devi ammettere che le tue sono piuttosto affumicate», intervenne Damon. «Ma andiamo, George, non litigheremo per una questione del genere. Tu sai bene quale sia il mio atteggiamento quando ho a che fare con l'ignoto. Non affermo né nego, e posso solo dire che la tua credenza è plausibile, se non proprio possibile. A essere onesto verso di te, verso me stesso e verso il resto del mondo, tutto ciò che posso dire è che non so, ma che vorrei sapere. E sono d'accordo con Pityas nel chiederti di metterci personalmente in contatto con queste anime incorporee. «C'è il vecchio palazzo di Birchol», buttò lì con non curanza Pityas. «Magari ci scappa anche l'incontro. Dicono che ci sono i fantasmi». «Il posto ideale», esclamò Damon. «Credi che il fantasma che percorre i tetri corridoi intorno alla sinistra mezzanotte, eccetera, si degnerà di rendersi visibile a edificazione di due miseri mortali miscredenti come noi? Quale occasione migliore? Sono solo le dieci e possiamo essere lì per le undici. Io e Pityas ci muniremo di una dozzina di candele, di una mezza dozzina ad once di duram e di trilbi da leggere a turno ad altavoce, quest'ultimo per influenzare e predisporre la nostra immaginazione. Che te ne pare, Pityas, della proposta? Io sono sempre disposto», rispose costui. «Ora che ho un po' di tempo libero, sapete, ho finito gli esami, ma sarei per eliminare trilbi sostituendolo con gli scacchi. «Inoltre porterei una manciata di petardi da far scoppiare quando il fantasma apparirà. Potrebbe essere, chissà, un diavolo cinese. Tu naturalmente vieni con noi, vero, George? No. Allora faresti bene a trovarti un compagno e a restare di guardia all'esterno, in caso di incidenti, e per controllare che non scappiamo». «È presto fatto», rispose George. «Basta chiamare Fred. Adesso starà per uscire a caccia di gatti». «A caccia di gatti?» «Già, a caccia di gatti. Il fatto è che è immerso nell'anatomia di Gray e si trova a corto di cadaveri. Ha perfino fatto fuori il gatto maltese della sorella, ed era così fiero di averlo articolato che ha avuto la faccia tosta di mostrarglielo, dicendole che era lo scheletro di un coniglio. «Che bestia!» «Il gatto?» «No, Fred! Chissà come sarà dispiaciuto ad ora di averlo perso». «Fred andrebbe bastonato?» «No, sezionato, poi articolato e presentato ai familiari del defunto, come anello mancante. Non lo riconoscerebbero più di quanto d'ora abbia riconosciuto il suo gatto». «Se i gatti avessero un'anima, fosse lui avrei paura a circolare di notte». «Che mi dici, George?» «Ce l'hanno un'anima». «Non lo so, ma non perdiamo altro tempo se vogliamo mettere in atto il nostro progetto. Dobbiamo trovarci alle undici in punto davanti alla casa». Si dissero tutti d'accordo e, pagato il conto, lasciarono il ristorante. «George, per andare a cercare Fred, Damon e Piteas, per investire gli spiccioli rimasti in candele, Petardi e Duram». Alle undici, i quattro amici si trovarono davanti a Palazzo Birchol. Il clima era baldanzoso e, al momento di separarsi, George così li arringò. «Tu, agnostico demon, e tu, scettico Piteas, prestate ascolto alle mie parole. Vi state per avventurare in un luogo ritenuto dal volgo stregato. La verità di ciò resta ancora da purare. Ma ricordate che a tale energia, contro cui dovete lottare, non ci si oppone come a quelle forze terrene di cui siete a conoscenza. È misteriosa, imponderabile e possente. È invisibile, ma spesso anche visibile. E può manifestarsi in mille modi. Porte chiuse a chiave che si aprono, luci che si spengono, mattoni che cadono. Nonché rumori strani, grida, imprecazioni e gemiti. Sono le manifestazioni più basse di questo fenomeno. Inoltre, come in questa vita abbiamo creature portate al bene o al male, così, nella vita a venire, incontriamo spiriti buoni e cattivi. Guai a voi se entrate in contatto con gli spiriti del male. Potrebbe capitarvi di essere sollevati da terra e sbatacchiati al suolo, o contro le pareti, come una palla. O di vedere cose mostruose, inconcepibili a essere umano. E il terrore potrebbe essere così grande, da distruggere il vostro equilibrio mentale, riducendovi a idioti farfuglianti o a pazzi furiosi. E ancora, questi spiriti del male hanno il potere di privarvi di uno o due, o anche di tutti i sensi, se lo vogliono. Possono spaccarvi timpani, bruciarvi gli occhi, distruggervi la voce, danneggiare irreparabilmente il gusto e l'olfatto, paralizzare qualsiasi nervo del corpo. E come ai tempi di Cristo possono prendere dimora nel vostro corpo, e allora tormentati dagli spiriti del male, la prospettiva è il manicomio e la cella imbottita. Non ho consigli da darvi, ignorante come sono, al momento di affrontare questa misteriosa prova. Le mie parole di commiato siano dunque «State calmi, siate prudenti e riuscite nell'impresa». Dopodiché si separarono, demon e piti a saccaccia di fantasmi, George e Fred, di gatti. I primi due si avviarono a grandi passi verso il portone, ma trovandolo chiuso, e visto che gli spiriti non rispondevano ai ripetuti colpi dati al grosso antiquato battente, provarono con le finestre del lungo portico. Anche quelle erano chiuse. Arrampicandosi come meglio potevano sopra il portico, trovarono una finestra aperta al secondo piano. Non appena entrati, accesero un paio di candele e si misero a esplorare. Tutto era vecchio, polveroso e ammuffito, come avevano immaginato. A partire dal terzo piano passarono tutto quanto a setaccio, aprirono gli armadi, scostarono gli arazzi marci alla ricerca di botole, battendo perfino alle pareti per controllare. Azioni queste, giustificate dal fatto che avevano entrambi letto di recente Emile Gabouriot, per emulare Mossie Lacocque, scesero addirittura nel seminterrato, ma era una faccenda talmente complicata che disperati ci rinunciarono. Tornarono al secondo piano con un paio di sgabelli e una cassa che avevano rimediato. Fecero modo di sistemarsi comodamente nella stanza più pulita che riuscirono a trovare. Sebbene illuminato da una mezza dozzina di candele, l'ambiente sembrava ugualmente squallido e desolato, smorzando la loro baldanza al punto giusto, come ebbe a dire Daemon, per una buona partita a scacchi. Passata che fu la prima ora e mezza, avevano concluso la prima partita. Una magnifica partita, a dire il vero. Pithias aprì la sua cipolla e osservò. Mezzanotte e mezza e niente fantasma. Il fatto è che la stanza è così piena di fumo che il povero fantasma non riesce a farsi vedere, ribatté Daemon. Apri la finestra e fanne uscire almeno un po'. Dopodiché sistemarono gli scacchi per un'altra partita. Ma nel momento in cui allungava la mano per muovere il pedone di Re Bianco, Daemon si fermò con un'espressione spaventata in viso, come anche Pithias. Si lanciarono in silenzio degli sguardi interrogativi. Evidente, benché incomprensibile, era in entrambi lo stesso sgomento. Daemon provò di nuovo a muovere il pedone. Di nuovo si fermò e di nuovo si fissarono, sbigottiti. Il silenzio si era fatto così palpabile da pesare come piombo su di loro. La tensione nervosa era insopportabile e cercarono entrambi di romperla, ma in vano. Allora ripensarono all'avvertimento ricevuto da George. Possibile. Era dunque vero. Erano stati privati della parola da quella forza psichica, cosciente, cui nessuno dei due credeva. Come in un incubo, morivano dalla voglia di sgolarsi, di rompere l'orribile influsso paralizzante. Pithias era di un pallore mortale, mentre grosse gocce di sudore imperlavano alla fronte di Daemon e, gocciolando lungo il dorso nasale, finivano in minuta cascatella sulla cravatta immacolata e sul lucente sparato. Per un'eternità, come parve loro, ma non per più di un paio di minuti, rimasero a fissarsi in preda all'angoscia. Alla fine, l'intuito li avvertì che le cose stavano arrivando a una svolta. capirono che la tensione non sarebbe durata ancora per molto. All'improvviso, arcano e lacerante nel silenzio della notte, si levò penetrando attraverso la finestra aperta l'urlo di un gatto, seguito da un raspare contro una palizzata, dal rumore di pietre che sbattevano contro degli assi e l'urlo di trionfo del gatto si mutò in lamento di dolore e di terrore che si trasformò rapidamente in gorgoglio strozzato. Poi udirono la voce di Fred cacciare un entusiastico fuori uno come un sommozzatore che immergendo dagli abissi dell'oceano prova un piacere meraviglioso a espellere l'aria viziata dai polmoni tornando a respirare l'essenza della vita. Così si sentirono anche loro ma solo per un attimo l'incantesimo non era stato rotto. Allora lo sgomento tornò mille volte più forte. Provarono entrambi il desiderio isterico di ridere tanto appariva ridicola la situazione ma anche questo negò la forza misteriosa e i loro visi si contrassero in un rictus idiota. Inorriditi dalla cosa concentrarono tutte le loro energie per controllarsi e sui loro visi tornò l'espressione di sconcerto. Al tempo stesso una luce si accese nella loro testa. Avevano ancora libertà di movimento. la dimostrazione era che avevano mosso le labbra. Accennarono ad alzarsi come per darsela a gambe quando la vigliaccheria del gesto li trattenne e si rimisero a sedere. Pithias avvicinò una manciata di petardi e una candela e li gettò in mezzo alla stanza. I petardi crepitarono e fischiarono scoppiettarono e rimbombarono riempiendo la stanza di una densa nuvola di fumo che incombeva su di loro come un manto arcana e oppressiva nel terrificante silenzio che seguì. Una strana sensazione si impadronì allora di Daemon. Qualsiasi paura del soprannaturale sembrò abbandonarlo. Sostituita da un folle fuoribondo irresistibile desiderio di cominciare la partita. Si rese conto in modo vago che stava subendo una reincarnazione. Sentì che si stava rapidamente trasformando in un altro o qualcos'altro si stava rapidamente trasformando in lui. La sua personalità scomparve e come in sogno scoprì che un'altra e più potente personalità era stata proiettata o aveva sopraffatto inghiottito la sua. Gli sembrò di essere diventato vecchio e debole mentre si piegava sotto il peso degli anni. Eppure quel peso gli parve stranamente lieve come se entusiastica eccitazione che fremeva ribolliva e palpitava dentro di lui. Gli sembrava che tutto il suo destino fosse in gioco sulla scacchiera che aveva davanti a sé. Come se la sua vita la sua anima tutto si giocasse nella partita che stava per iniziare. Allora un odio implacabile e un atroce desiderio di vendetta si risvegliarono in lui. Mille torti parvero levarsi innanzi a lui con vivida chiarezza. Mille demoni parvero indurlo a realizzare il suo desiderio. Come odiava quella creatura, quell'uomo che era satana in persona, che lo sfidava dall'altra parte della scacchiera. Gli lanciò uno sguardo provocatorio e con la rapidità di un aquila che si invola. il suo odio aumentò nel guardare quel viso sorridente, infido, quegli occhi socchiusi, menzogneri. Non era Pityas quello. Pityas era sparito. Non si domandò neppure perché e quando. Le stesse strane cose capitate a demon erano capitate anche a Pityas. Detestava l'avversario che aveva di fronte. Si sentiva capace di tutte le astuzie, di tutte le sezze del mondo. Teneva l'altro in suo potere. Lo sapeva e ne era contento mentre gli sorrideva con esasperante sicumera. L'ebbrezza di sconfiggerlo, di umiliarlo, salì alle stelle. Non vedeva l'ora di iniziare. La partita cominciò. Demon apriò udacemente offrendo il gambetto. Pityas rispose ma restò sulla difensiva. L'attacco di demon fu brillante e rapido ma incontrò combinazioni così ardite nuove che alla ventisettesima mossa era in crisi mentre Pityas non aveva ancora sacrificato neanche un pedone. Rinnovando gli sforzi Daemon con un attacco più efficace e più sostenuto mise Pityas in una situazione per cui o perdeva la regina o subiva scaccomatto in quattro mosse. Ma con una stupefacente serie di mosse ardite Daemon attaccò selvaggiamente ma fu respinto dal gioco più prudente dell'avversario che creando una diversione sul fianco destro con delicate manovre si riprese riportandosi su un piede di parità e così la partita una delle più grandiose che si siano mai viste continuò era un duello straordinario in cui i due partecipanti avevano scordato che il mondo continuava ad andare avanti e l'apparire dei primi albori alla finestra trovò Daemon in una situazione grave per evitare lo scacco matto sarebbe stato costretto ad arroccare lo sapeva allora il suo avversario avrebbe dato scacco alla regina e preso il suo alfiere inevitabile poi lo scacco matto all'improvviso tuttavia ebbe un lampo intravide una brillante soluzione con una serie di mosse e ribaltare la situazione il fato ci mise lo zampino il lacerante grido di un gatto si levò rompendo la sua concentrazione la mossa progettata si cancellò e la minaccia dello scacco gli oscurò a tal punto la visione della cosa che arroccò e si trovò inevitabilmente in scacco con sei mosse e il suo cervello vacillò tutti i torti subiti durante la vita reclamarono a gran voce vendetta tutti gli inganni le menzogne i tradimenti dell'avversario si presentarono alla mente con impressionante chiarezza maledisse il sorridente mostro che aveva di fronte e barcollando si alzò l'assassinio si mise a correre come un indemoniato in mezzo ai suoi pensieri e avventandosi su pitias con uno spaventoso grido gli affondò le mani nella gola lo gettò riverso sulla scacchiera e con la rabbia di un demonio ma con una gioia meravigliosa sublime lo strozzò finché il viso gli divenne nero agonizzante sarebbe finita malissimo per pitias se dalle scale non fosse giunto un pesticcio di passi affrettati e due poliziotti e coloro fred e george non avessero fatto irruzione separandoli allora demon sconcertato tornò in sé e aiutò a rimettere in sesto l'amico è quasi la replica del vecchio assassino Birchall Dunsmore disse il sergente mentre erano fermi all'angolo a parlarne Dunsmore il nipote era stato la dannazione della sua vita sin da ragazzo non aveva affatto che dargli grattacapi da grande gli aveva dato tutta sorta di dispiaceri e alla fine a furia di furbesche ladresche manovre finanziarie lo aveva derubato di tutto ciò che possedeva tranne il palazzo una sera lo aveva indotto a giocarselo a scacchi era tutto ciò che separava ancora Birchall dal cimitero dei poveri e quando lo perse perse anche la ragione e strangolò il nipote sopra la stessa scacchiera sulla quale avevano giocato la partita decisiva dei bravi giocatori a quanto pare erano fra i migliori che si siano mai visti ciao se questo video ti è piaciuto ricorda di mettere un like e iscriviti al canale ed adesso puoi anche abbonarti per sostenere il nostro progetto e ottenere moltissimi vantaggi per l'abbonamento link in descrizione ciao ciao